Nel mondo vibrante e imprevedibile di amici, i colpi di scena non mancano mai, mantenendo sempre alta l'adrenalina tra i fan del talent. Gli spettatori sanno bene che ogni stagione può riservare sorprese inaspettate, e quest'anno non è certo da meno. Una figura di spicco, è una presenza carismatica e amatissima, è improvvisamente mancata all'appello nella prima puntata. Stiamo parlando della talentuosa Giulia Stabile, la ballerina che ha catturato i cuori vincendo la ventesima edizione e che da allora ha ampliato il suo repertorio, diventando una conduttrice e showgirl di successo. La sua assenza ha destato parecchio scalpore, soprattutto per il suo legame con il programma. Ma perché Giulia non era in studio? Il mistero si è infittito fino a quando Maria De Filippi, con uno dei suoi gesti a sorpresa, ha deciso di contattarla in diretta. Ed ecco che, con un click, Giulia è apparsa in collegamento video da Londra, riaccendendo l'entusiasmo del pubblico. La giovane starerà oltre Manica per motivi personali, lasciando però un alone di mistero sul suo ritorno in Italia. Durante il collegamento, non ha svelato se rientrerà presto a casa o se rimarrà ancora all'estero, alimentando così la curiosità di tutti. Resta dunque l'interrogativo. Quale sarà il prossimo passo di Giulia? Solo il tempo potrà rispondere. Resta dunque l'interrogativo.